ciao amiche di filo oggi realizziamo insieme questa meravigliosa borsa di sughero come vedete perfettamente rifinita anche all'interno c'è una chiusura in alto che però è opzionale cercherò di darvi tutti i consigli per farla al meglio ho preparato un cartamodello che si compone della parte a da utilizzare sia intero che poi così ripiegato e poi c'è una parte b ma i tessuti che ho utilizzato sono dei tessuti di sughero sono di giolà sono di altissima qualità potete in realtà utilizzare anche altri tipi di tessuto vi consiglio di combinare comunque due fantasie questi sono meravigliosi vi lascio tutte le indicazioni nell'info box per ritagliarli al meglio vi do qualche consiglio vedete questa parte qui decorata va segnata con uno spillo in modo tale da posizionare poi per bene il cartamodello prima di posizionare il cartamodello a traccio due linee parallele a 7 cm l'una dall'altra vedete sono due linee parallele e poi sovrappongo il cartamodello attenzione allo spillo e poi lo sovrappongo qui in questo modo e traccio tutto quanto il contorno con la penna vedete anche qua in basso finisce dove finisce il cartamodello e vado così in verticale poi posiziono di nuovo il cartamodello così affiancato a questo alla linea affiancata all'altro cartamodello ed in basso sistema comunque i famosi 7 cm che mi serviranno poi per la profondità della borsa ok fatto questo ripiego il cartamodello a e sempre con il tessuto decorato traccio tutto il contorno in questo caso non è compreso il margine di cuscitura quindi lasciate un centimetro tutto attorno con il cartamodello b ritaglio due parti vedete lo metto sul retro del tessuto sulla base e poi lo metto così speculare quindi utilizzo tutta l'altezza del tessuto di sughero con uno spreco minimo quindi vado a ritagliare ricapitolando con il cartamodello a aperto ho ritagliato due parti decorate per l'esterno di sughero e poi due tessuti da mettere all'interno che sono dei tessuti di cotone guardate vi faccio vedere mettete così il cartamodello e poi si deve aggiungere una fascia in basso di 7 cm semplicemente quindi ripiego poi il tessuto e vado a ritagliare sempre questa parte decorata ricordatevi di lasciare il margine di cucitura tutto attorno quindi traccio il bordo e poi ci lascio un po di tessuto e con questo lo vado questa diciamo parte ritagliata la vado a sovrapporre a due pezzi di tessuto di cotone quello che ho messo all'interno e faccio praticamente della stessa misura cartamodello b in questo caso qui ritaglio due parti di sughero semplice e due parti da mettere all'interno quindi in questo caso è compreso il margine di cucitura quindi sovrapposto ritagliato proprio come il cartamodello quindi uno due per l'esterno e due per l'interno per cucire il sughero occorre un ago universale misura 80 quindi un ago semplicissimo il piedino quello normale partiamo con il cucire la tasca quindi prendo il tessuto metto dritto su dritto con la parte di sughero e poi qui dove ho tracciato le linee blocco ovviamente tutto insieme vi consiglio di utilizzare le pinzette e fare una cucitura su questa linea e su questa linea qua ve lo mostro alla macchina per cucire che è facilissimo quindi blocco il punto all'inizio e procedo con la cucitura quindi sul retro lo sughero si comporta come un normalissimo tessuto senza alcun problema si cuce allungate però il punto di cucitura almeno a 3,5 anzi 4 mm blocco il punto alla fine quindi cucitura qui in alto in basso lunghezza del punto 4 come vedete è una normalissima cucitura quindi usate tranquillamente il sughero per le vostre creazioni e verranno delle creazioni straordinarie poi con delicatezza si riporta sul dritto ecco bisogna fare senza stropicciarlo più di tanto sistemo per bene questa parte qui in alto e qui in basso appiattisco utilizzo le pinzette per evitare di stressare troppo il sughero e faccio una cucitura qui in alto vi faccio vedere che anche sul dritto questo sughero si cuce tranquillamente vado a bordo piedino lunghezza del punto 4 mm e procedo tranquillamente ovviamente se volete utilizzare il piedino di teflon fatelo vi aiuterà un pochino però si cuce tranquillamente anche con questo piedino ecco qui ribattuta la parte in alto ora devo sistemare la tasca perché questa qui è la tasca della borsa quindi prendo il pannello a questo qui sul pannello a riporto il cartamodello e marco qui proprio alla base del cartamodello stesso con la penna proprio vicinissimo al bordo e posiziono quindi la tasca rispetto a queste marche qui quindi posiziono per bene in questo modo quindi in questo caso vi consiglio di utilizzare degli spilli molto affilati quindi non non quelli che possono rovinare il sughero se li avete mettetevi per bene e quindi alla mia macchina ho ridotto un pochino la tensione da 4 l'ho portata a 3,6 perché lavoro su più strati faccio quindi la cucitura qua in basso quindi blocco il punto e procedo con la cucitura ecco il consiglio che quando lavorate su più strati iniziate un pochino a ridurre di qualche punto la tensione ok per evitare che il filo tiri troppo poi regolatevi in base alla vostra macchina ovviamente quindi blocco il punto alla fine della cucitura ecco vedete ho fatto proprio questa cucitura in basso ora prima di procedere con le altre lavorazioni faccio anche la cucitura su questo lato e su questo vi consiglio di lavorare proprio sul rovescio in modo da avere un riferimento più insomma definito fatte queste due cuciture qui devo eliminare questo eccesso quindi rispetto al pannello della borsa elimino questo eccesso qua ecco qui bene il pannello con la tasca è pronta ovviamente la tasca potete non metterla però se la mettete vedete molto molto carina poi per la borsa adesso unirò gli altri pannelli questo è il b in particolare la parte più larga va sulla parte alta della borsa quindi a fianco in questo modo partendo dall'alto avvicino e blocco sempre con le pinzette qua e qua in basso vedete finisce proprio dove termina la tasca poi su quest'altro lato metto l'altro pannello b sempre la parte larga su in alto quindi a fianco per bene e blocco anche questa parto dall'alto perché per me poi è più comodo e arrivo fino alla fine della tasca faccio quindi una cucitura su questo lato e su questo e poi quindi un esco in questo modo questa cucitura come vedete ma già abbiamo visto tante volte anche su due strade di sud e però va perfetta fatta questa cucitura ribatto mettendo il bordo verso l'interno e quindi verso la parte non lavorata ok verso il pannello b per intenderci e procedo con la ribattitura ecco qui bloccata quindi cucitura e poi la ribattitura vedete qualche millimetro fatto con il bordo che va verso il pannello chiamiamolo b ecco qui anche questo verso il pannello semplice il pannello b questa qui è la base ora unesco l'ultima parte la metto come ho messa l'altra quindi la parte stretta in alto e la vado ad unire sia su questo lato qua e quindi unita e ribattuta ecco qua tutto quanto il mio pannello 1 2 3 4 l'ultima fase prevede la chiusura della cucitura sempre con le stesse modalità partendo dalla parte alta unisco i due lati e poi vediamo insieme come ribatterla ok quindi unito anche questo lato qui vedete rimane come un tubo ora per ribattere vi do qualche consiglio io metto a braccio libero poi sistemo così come ho fatto prima con le stesse modalità vedete fino ad un certo punto riesco a lavorare lo faccio vedere per le principianti poi sistema un pochino la borsa attorno al piedino ecco dovete purtroppo fare un pochino così e continuare con la cucitura fino in basso vi consiglio comunque di ribattere tutti questi pannelli perché insomma il lavoro viene fatto veramente meglio ecco qua fatto quindi la parte esterna è praticamente pronta guardate si presenta proprio così quindi è come una sorta di tubo per intenderci qui la parte bassa adesso io unisco questa parte qui in basso con una cucitura sempre a bordo piedino eccola qua ecco qua fatta la cucitura a bordo piedino e ora procedo con la chiusura degli angoletti di base quindi avvicino così mando su un lato e poi faccio la cucitura sia su questo lato che su questo ecco qui quella che io ho fatto guardate poi questo l'ho mandato sul lato di qua e di conseguenza ho fatto l'ultima quest'altra cucitura quindi la parte esterna della borsa è pronta passiamo all'interno quindi tasca interna carta modello a richiuso vado a rifinire solo il bordo qui in quindi lo ripiego per due volte e poi insomma faccio una semplicissima cucitura eccola qui questo lo devo posizionare sul pannello a questo qua con i 7 centimetri qui dove c'è la linea marco per bene ci faccio un segno perché la linea ovviamente sta sul retro del tessuto sulla parte non bella del tessuto lo dico per le principianti quindi questo qui sul dritto si vedrà e metto dritto su dritto quindi la tasca metto il dritto questa parte qui in basso la faccio coincidere con questa marca che ho fatto guardate la linea dovrà coincidere con la marca posizionata la linea di massima e poi aiutatevi con gli spilli quindi vado sulla linea vedete passa proprio dove ho ripiegato il tessuto ecco qua lo posiziono prima in linea di massima e poi metto uno spillo vedete sul retro gli spilli stanno proprio su questo questa marca qua bene adesso faccio una cucitura qui è unito i due tessuti ora rigiro così quindi vedrò tutto il dritto del tessuto e blocco la tasca su questi lati eccola qua la tasca è applicata come prima elimino questi eccessi la parte interna l'assemblo come quella esterna quindi unirò il pannello a con la parte più larga in alto e faccio la cucitura in questo caso non faccio le ribattiture questo va detto poi unisco l'altro pannello sull'altro lato queste le faccio tutte chiuse queste cuciture poi unisco il pannello a in alto quest'ultima cucitura faccio una bella apertura deve essere un'apertura abbastanza ampia vedete perché poi mi servirà per risvoltare questa apertura io l'ho fatta vi consiglio di farla insomma di almeno 24 25 centimetri poi chiudo qui in basso sia la cucitura che gli angoli quindi ripeto le stesse operazioni di prima la parte interna è pronta vi ripeto ecco rifinita allo stesso modo l'unica differenza è questa apertura qui vediamo quindi una chiusura da mettere sulla parte alta una bella cerniera e poi due strisce di sughero e due di tessuto interno queste hanno tutte quante la stessa misura e 7 per 38 cm sulla cerniera questa qui è quella a metro ne ho tagliato tipo 44 cm la vado a sistemare sulla parte di sughero allineata per bene così la blocco per bene in posizione con le pinze e poi sovrappongo il tessuto dritto su dritto qui dove inizia la cerniera io la chiudo in questo la ripiego in questo modo ok blocco così e quindi faccio poi l'applicazione della cerniera con una bella cucitura ovviamente con il piedino per le cerniere per come ho messo io la cerniera blocco il punto all'inizio poi procedo con una cucitura normale senza incontrare il cursore mi fermo un pochino prima adesso ve lo faccio vedere in dettaglio allora questa è la parte iniziale ok bloccato per bene il punto qui mi sono fermata a circa due centimetri oppure un centimetro e mezzo questo decidetelo voi quindi marco per bene questa misura e la riporto anche sull'altro pezzo perché dovrò fare lo stesso tipo di cucitura la stessa identica operazione sull'altro lato quindi metto su quest'altro lato il tessuto in basso vedete sovrappongo così dritto su dritto e metto in mezzo la cerniera la cucitura identica quella precedente bloccata per bene così all'inizio e poi fino alla fine vedete rimangono due centimetri senza cucitura bene da questa parte qui iniziale io richiudo così riditto su dritto e faccio una cucitura per tutte e due queste parti eccole qua prima di girare tolgo un pochino i dentini qua sull'angolo un po di eccesso e poi giro sul dritto riporto con delicatezza così e spingo anche un pochino l'angoletto alle esterno con qualcosa non troppo appuntito e quindi faccio attenzione ma senza senza esagerare sia questo che questo qui quindi devo sistemare la parte iniziale della cerniera ok bene sulla parte invece pinzo adesso metto un po di pinze tira un pochino così e sistemo per bene tutta questa fascia ora vi faccio invece vedere anche come sistemare qua in basso che è rimasto aperto come vedete dopo aver bloccato diciamo i laterali vedete questa parte la ripiego per i due centimetri nel mio caso e poi anche quest'altra la parte che non ho cucita la rimando verso l'interno e quindi faccio coincidere i bordi in questa maniera veramente facilissimo quindi tenete tutto fermo così e bloccate questa parte tutte e due le parti si sistemano allo stesso modo quindi anche in questo caso mando così verso l'interno insomma veramente facile mettetevi sul piano per bene fate combaciare i bordi e quindi bloccate con la pinzettina ecco come vedete io ho sistemato tutti i bordi con le pinze e adesso faccio una bella cucitura per bloccare il tutto sempre con il piedino per le cerniere faccio parto da questo lato qui sul davanti vado così apro tutta quanta la cerniera così non ostacoli e quindi giro acqua in basso qui dove c'è la parte ripiegata all'interno ecco fate un pochino d'attenzione ma niente di difficile qua si procede voi a ribattere tutta questa parte qui in maniera estremamente facile basta tenere aperti i due bordi ok quindi fino alla fine della di tutta questa lunghezza il punto iniziale è quello un pochino più complicato però niente di che qui in basso chiudo questa parte qui che era rimasta aperta dove avevo sistemato i bordi e quindi vado su quest'altro lato lungo solo per bloccare insieme le due parti sughero e tessuto ecco qua il risultato finale questa sarà la chiusura della mia borsa vedete che carina cioè questa è la proposta che io vi faccio che secondo me quella ideale qui devo però sistemare la fine della cerniera quindi prendo un ritaglio dei tessuti di sughero che mi erano rimasti e faccio una lunghezza di sette centimetri poi la larghezza e adesso vi faccio vedere la sistemiamo insieme quindi su questi sette centimetri vado a riportare la larghezza della cerniera quindi dipende da quella che state utilizzando ripiego questo bordino sto ripiegando sul lato dei sette centimetri vi ripeto poi su quest'altro ripiego circa mezzo centimetro e poi vado dritto su dritto faccio coincidere i bordi blocco così e adesso faccio due cuciture fate attenzione queste cuciture come vedete sono facilissime ve ne sto facendo vedere sono due cuciture però spostate di qualche millimetro perché mi dovranno poi consentire consentire di inserire la cerniera all'interno quindi elimino l'eccesso riporto sul dritto questa parte qua faccio sempre piano pianino tiro fuori gli angoletti con queste forbici che non sono appuntite e quindi guardate questo copricerniera è pronto inserisco qui all'interno faccio una cucitura la cucitura la potete fare tranquillamente sui dentini della cerniera se sono di plastica come nel mio caso quindi guardate lentamente si procede si fa questa cucitura ben bloccata all'inizio e dalla fine eccolo qua ed ecco qui pronta la chiusura della mia borsa marco il centro di questo lato con un piccolo taglietto e su questo lato qua questo mi servirà per posizionarlo questi invece sono i manici che ho scelto per per la mia borsa potete scegliere altri tipi di manici poi vi darò indicazioni su come sistemare anche questi tipo bambù ecco i manici normali quelli di le fasce diciamo di semplici allora queste qui le applicherò con questi ritagli in particolare prendo come riferimento questa larghezza vedete deve andare così e deve sporgere un po per la cucitura vi do un'indicazione questa è di 9 x 8 cm i lati il lato di 9 lo vado a rifinire vi consiglio in realtà di fare 10 e poi rifinirlo in modo tale da avere una fascetta un pochino più larga vabbè io ho utilizzato questi che avevo e quindi adattato questi qua va bene quindi rifinite i due lati che vedete rimangono poi a vista devo bloccarlo sul manico con il piedino per le cerniere questo qui vi consente di arrivare un pochino più vicini non è che faccio tutta la cucitura faccio la zona centrale una piccola cucitura per bloccare in posizione per bene così eccoli qua tutti e due manici ora a metà vedete che se da 9 si è ridotta 8 cm in marco proprio il centro quindi misurate il centro di questa lunghezza qua e lo posiziono dove c'è la marca sul centro di questa patta e la vado a fermare con una cucitura sia su questo lato che su questo lato qui se non mettete la chiusura lo fermate sul centro della borsa quindi sulla parte per esempio esterna comunque fermato in questo modo adesso vi faccio vedere se volete utilizzare questi questi qui non a caso ho lasciato un'apertura qui questo pannello è di 15 cm quindi lo posizionate proprio dove finisce la parte decorata del sughero quella parte c'entra il pannello a per intenderci basta fare delle striscioline così semplicemente ripiegate e cucite della larghezza opportuna che sarà circa due centimetri anche un po meno le posizionate proprio qui dove finisce il pannello a ok vedete proprio questa la misura la sistemate così sui quattro punti oppure mettete queste striscioline qua decidete voi il tipo di manico da inserire quindi sono pronta adesso per l'assemblaggio perché ho preparato la parte esterna quella interna e la fatta per posizionare la patta devo misurare qui da cucitura a cucitura proprio il punto medio che nel mio caso sta 7,5 centimetri sia su questo lato che su questo lato qui quindi punto medio marcato questa ovviamente la parte esterna adesso sistemo dritto su dritto e faccio coincidere questo punto per bene allineato per bene mi raccomando qui allineato tutto il lato fino a questo punto e poi allineo anche di qua e blocco quindi allineate per bene mettete tante pinzette anche sull'altro lato ripeto la stessa operazione sistemata tutta la parte della chiusura inserisco la parte interna riporto sul dritto individuo la tasca esterna questa interna mi raccomando la metto sul lato opposto poi faccio coincidere questa cucitura e tutte e quattro le cuciture in realtà questa cucitura qui quindi sposto la pinza e lo blocco e poi blocco per bene tutto quanto il bordo facendo coincidere tutti quanti diciamo gli strati tessuto e sughero sistemato tutto il bordo passo alla macchina per cucire di nuovo piedino per cerniere con il braccio libero inserisco e faccio tutta quanta la cucitura vi do qualche trucchetto se utilizzate i manici come i miei ovviamente si parte con il punto dritto bloccato all'inizio partite da qualsiasi punto che non sia dove avete sistemato i manici e poi si procede sulla lunghezza qua rimanete sempre ad una distanza costante bordo piedino un centimetro quello che preferite quando si incontra il manico simile al mio di legno vedete qui vi consiglio di spostarlo in questo modo quindi di passare mantenendo sempre la stessa distanza dal bordo ok quindi sposto un po solleva un pochino il manico vedete che non è appoggiato in orizzontale ma è spostato e riesco a passare su questo tratto qua poi per tutti gli altri tratti diciamo per tutte le altre fasi la cucitura è semplicissima si va semplicemente a bordo piedino togliete mi raccomando le pinzette proprio quando arrivate sulla posizione per non far muovere i vari strati ecco qua vedete eccolo qua il manico e tutto quanto adesso giro sul dritto questa bella apertura grande che ho lasciato mi consente di passare agevolmente ecco prendetela tutta insieme così e fatela passare opla ecco non lo stropicciate troppo però insomma si fa tranquillamente la borsa l'ho riportata sul dritto eccola qua adesso sistema un pochino così con le mani tutte le varie parti vedete questa è la base semplicemente così con le mani ovviamente l'apertura che c'è all'interno la potete chiudere o con la macchina o a mano ecco qua la base guardate che carina che è questa borsa ok fatto adesso passiamo a sistemare la parte alta allora qua in alto vedete tutto perfettamente definito però vi consiglio di fare quest'ultimo passaggio di sistemare per bene qui il bordo sempre con le pinzette ok anche qui dove c'è la patta vedete va tranquillamente in basso perché cucita quindi la blocco anche in questo caso con le pinze e preparo tutto quanto il bordo e poi procedo con la cucitura anche in questo caso anche in questo caso lavoro a braccio libero sempre con il piedino per le nere e quindi procedo così faccio attenzione vado lentamente ma solamente per fare un lavoro più preciso perché comunque si cuce tranquillamente sia il materiale vedete si va tranquillamente questa volta si passa in maniera tranquilla vicino al manico è fatta questa parte qui in realtà è tutto quanto ecco aiutatevi un pochino casomai con le mani e rimanete parallele al bordo ecco qua sistemate e poi si cuce la parte in alto come vedete è terminata quindi ho fatto tutto quanto il contorno in alto ecco qua si chiude guardate che spettacolo questa borsa questa la posso mandare qui all'interno questa è la tasca che rimane all'esterno bellissima questa borsa scusate ma è veramente spettacolare qui si apre quindi vi ripeto questa parte in alto di chiusura è opzionale potete non metterla quindi la posso chiudere così ed eccola qui la borsa per l'estate sarà la mia borsa per l'estate adesso vi dico le misure vi siamo a 35 centimetri 36 in basso e poi c'è la profondità che è di 14 poi vi lascio tutte le indicazioni nella casella delle informazioni le misure eventualmente il modello se vi necessita e poi niente vi vi lascio i link del di tutto insomma quello che ho utilizzato io ma potete usare qualsiasi tipo di tessuto solo che con il sughero e spettacolare spettacolare amiche io vi mando un abbraccio grandissimo vi aspetto al prossimo tutorial quindi non dimenticate like di lasciare un commento e di condividere poi le vostre creazioni sulla mia pagina facebook sweet susi e le amiche di filo ciao ciao